ciao da che manzarine in questo nuovo video vi parlerò del recupero di tinte e motivi da tappeti stinti a causa di allagamenti o perdite d'acqua parte integrante di questo lavoro è il recupero delle tinte come avviene con le opere d'arte in questo particolare tappeto vediamo a causa di un allagamento il rosso centrale a stinto sui bordi chiari come vediamo il nostro esperto con il pennello tratta la zona stinta utilizzando un particolare prodotto smacchiante come potete vedere già dopo pochi minuti il prodotto agisce sulla parte stinta e anche per oggi è tutto ci vediamo al prossimo video e vi ricordo di seguirci sul nostro canale youtube grazie